Allora, io già avevo cominciato a cantare, avevo seguito un corso per qualche mese, però sentivo l'esigenza di approfondire il tema in una maniera diversa da quello che avevo già fatto, che il problema più grande era quello che mi mancava la sicurezza, perché comunque esibendomi, cioè avendo un gruppo, avendo delle date, la responsabilità tra virgolette di esibirmi più o meno sempre nello stesso modo, inteso come un giorno va bene, un giorno va male, chissà questa volta che cosa combino, chissà questa volta se a quella nota ci arrivo, quindi insomma anche per una questione mia di timidezza. La cosa che mi ha colpito di più del percorso è stato il ribaltamento del problema, proprio vederlo e prenderlo da un altro punto di vista, quindi io che sono molto dinamica, sono molto nella dimensione del fare, fare, però purtroppo mi sono accorta che è controproducente ed è un atteggiamento che io applico nella vita, non solo nel canto, e ho capito, grazie a questo percorso e ad altre cose che sto facendo personalmente, che in realtà è assolutamente controproducente, cioè la domanda che uno si fa all'inizio della performance o all'inizio di qualsiasi altra azione che fa nella vita è chissà se ce la faccio stavolta, in realtà ti porta a non farcela, o comunque a non farcela come tu vorresti. E quindi diciamo che l'indicazione di Andrea che mi ha ripetuto più volte, che è quella dello stare, cioè comunque semplicemente di far di far fluire, di stare ferma, di non pensare a fare, ma di pensare a stare, è una cosa che nel canto, ma poi anche nella vita in realtà, ogni tanto me la devo ricordare, quindi quando perdo il controllo, che dico ah, ritorno nel loop, chissà se riesco a farlo, mi dico ah, aspetta, mi viene in mente Andrea, che mi bacchetta e mi dice devi stare, non devi fare. Partendo diciamo dall'esibizione dal vivo, ho molta più sicurezza, ma a parte questo, chiaramente non sono ancora entrata al 100% nell'automatismo, quindi come dicevo, ogni tanto mi devo ricordare di stare e non di fare. Quando entro in quella dimensione, mi godo anche di più proprio la cosa, cioè mi godo di più il concerto, riesco a dedicare l'attenzione anche ad altro, oltre a speriamo di fare bene. Esatto, bravo. Quindi mi diverto, vedo le facce delle persone, è come se fosse una realtà aumentata, cioè esco dalla preoccupazione della performance e mi apro a tutto quello che c'è fuori e riesco anche a vivere la mia esibizione non come una cosa egoista, cioè devo far vedere di fare bene, ma come io vi do questo, cioè io vi do questo. Io sono questo. E arriva di più effettivamente, ma questo percorso e il cantare stesso, quindi andare anche a trovare delle canzoni da interpretare che in qualche modo possano rispecchiarmi, è uscito fuori, è uscito fuori un lato di me che era assolutamente sconosciuto, nel senso che io sono un po' maschiaccio. Invece con il canto è come se avessi scoperto, avessi cominciato a dare spazio a tutta quella parte molto più femminile, anche nella scelta delle canzoni. Io non mai avrei pensato di cantare determinate canzoni, che ne so, anche italiane o comunque con un registro abbastanza alto, cioè andare, propendere verso le note alte, verso un cantare molto femminile, non l'avrei mai detto. Quindi è stata, cioè veramente una scoperta a 360 gradi. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E ci sto ancora lavorando, nel senso continuo poi, è bello perché ogni giorno è una scoperta, ogni performance che faccio è una scoperta, ogni volta che faccio il riscaldamento è una scoperta. Bellissimo. Bellissimo. Bellissimo.